Bentornati sul canale Io amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come Duro colpo di Alfonso Signorini per il GF VIP 7, il conduttore ruba a Maria De Filippi un grande talento di amici . Colpaccio Signorini ruba talento.Il grande fratello VIP 6 è terminato da meno di due mesi eppure si sta già cominciando a parlare della prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini che riprenderà all'incirca settembre. Si continua a parlare di questa ultima edizione del GF, che ci ha tenuto compagnia per mesi interi, per gli scoop passati ma persino per le recenti vicende che sono emerse a galla, a distanza di mesi dalla fine del programma Insomma, nonostante quest'anno abbia fatto piuttosto discutere, il reality show di Signorini ha lasciato l'impronta nella mente di tanti italiani, che non sanno nemmeno cosa immaginarsi dalla prossima stagione . GF VIP 7, Signorini ruba un talento di amici.Nonostante tanti ex concorrenti del GF siano ancora impegnati in interviste varie sulla loro esperienza tra le mura della casa, il conduttore sta già cominciando ad organizzare la prossima edizione, il GF VIP 7 . Alfonso Signorini GF.Ovviamente, il processo per identificare VIP e firmare i contratti non è così veloce, per questo motivo Signorini si è già messo all'opera per reclutare i suoi futuri geffini . Come sempre, sono già spuntati fuori dei presunti nomi dei possibili futuri concorrenti del programma, ma niente è ancora certo Stando a quanto rivelano fonti attendibili però, Signorini avrebbe fatto un colpaccio alla collega Maria De Filippi, rubando un talento della scuola di amici . Alfonso infatti starebbe cercando di contattare e convincere un ballerino della scuola di amici a partecipare alla prossima stagione delle reality Stiamo parlando del talentoso, bello e simpatico ballerino Nunzio Stan Campiano . Nunzio, effettivamente, ha riscosso davvero molto successo sui social media, il suo account su Instagram conta già più di 320.000 followers, numero che aumenta quotidianamente Il conduttore della trasmissione ha già richiesto di contattare il ballerino, che come tutti gli altri concorrenti sarà sottoposto ad un casting, se accetterà di partecipare alla serie televisiva di Canale 5 Non siamo ancora a conoscenza della risposta o dell'idea di Nunzio per quanto riguarda questa proposta Vi ricordiamo però che anche lo scorso anno Signorini aveva tentato di reclutare una ballerina, ossia Martina, che però non ha accettato di vivere all'interno della casa per dedicarsi alla sua più grande passione, la danza . Siamo consapevoli, come lo è sicuramente Signorini, che la scelta potrebbe essere la stessa per quanto riguarda Nunzio, anche se restiamo ugualmente in attesa di conferme Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao